Nel monastero salesiano di Gerusalemme, seminaristi, diaconi e sacerdoti di diverse nazionalità si riuniscono per un momento di devozione mariana. Questi giovani, che fanno parte della congregazione fondata da Don Giovanni Bosco, santo educatore italiano del XIX secolo, il cui ministero si concentrò nella città di Torino, pregano e cantano chiedendo la protezione di Maria, ausiliatrice dei cristiani. In particolare, nei giorni precedenti alla sua festa, il 24 maggio. Alla fine della sua vita Don Bosco disse, è stata Maria a fare tutto, lei ha fatto tutto, non io. Questa è stata la chiave della nascita di questa devozione. Noi abbiamo per lei un grande affetto, come quello di un bambino che si rivolge con fiducia alla propria madre. Anche la diffusione della devozione alla Madonna ausiliatrice avvenne grazie a Don Bosco. Don Bosco rese molto famosa questa devozione e costruì la grandiosa basilica di Santa Maria ausiliatrice a Torino. A partire da allora, per Don Bosco esistette solo la Madonna ausiliatrice. Ma certamente questo titolo ha molti significati che non possono essere ridotti a poche parole. Uno degli insegnamenti di Don Bosco ai suoi bambini fu diffondete la devozione della Sacra Madre e vedrete accadere miracoli. Il titolo di ausiliatrice dei cristiani fu introdotto nella litania da San Pio V dopo la vittoria dei cristiani sui turchi del 1571 in Grecia nella battaglia di Lepanto. Subito dopo la battaglia di Lepanto, nella quale la Madonna aiutò i cristiani, questo titolo divenne molto popolare a Torino. Questa devozione alla Madonna ausiliatrice era celebrata in una delle parrocchie di Torino e Don Bosco la fece propria. Arriva la notte e la devozione a Maria continua con la preghiera del Santo Rosario.